Ci siamo? Ci siamo! Ciao amici! Siamo arrivati! Si amici siamo arrivati! Si si è fatta 500 km senza pause! Allora questo è il primo video che facciamo, vorremmo farne tantissimi, siamo in Austria a Rose che dai nostri amici Gargantini, dalla famiglia Gargantini, ormai siamo di casa qua, guardate che bellezza, guardate voi che bellezza! Allora vi accompagneremo questa settimana con filmati di ogni tipo, faremo di tutto, bravo fai vedere, guarda che bellezza, guarda che bellezza, aspetta eccolo là, quella è una chiatta, è il Titanic, è il Titanic, guarda c'è ancora la neve, ora qui non si vede, prima c'era la neve, ma sui monti si vede, praticamente salutiamo Johnny! Ciao Johnny! Grazie Johnny! Il nostro amico Johnny! Ciao Johnny! E che ci dite? Siamo arrivati qua, piove! Tac! Dacci una mano! Vai all'incontrario! Ehi ahi all'incontrario! Si scherza! Un abbraccione a Jonathan! Allora, oggi proveremo una pesca che non l'abbiamo mai fatto, perché è San Cialtrone noi! No, abbiamo provato ma l'abbiamo fatta in maniera da Cialtrone, questa volta la faremo un po' più da fighetti, bravo, bravo, pochino! Perché gli amici della Colmi, Jacopo ci ha dato due o tre indicazioni, e quindi speriamo di metterle in pratica! Pescheremo a Fider, andiamo al Cucerao, non abbiamo tanto tempo perché, insomma, fra la stagione e fra che sono le tre, pescheremo due o tre ore, facciamo un test e speriamo che vanno bene! Due test di legno! A fra poco! A fra sari! A fra sari! Quando si dice, questi qui siamo, alla fine faremo noi, vedi? Ta 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 ta! Ah bellino! Sembrava una Ingolana! Non ci credo! Abbiamo, l'abbiamo presa alla prima! Alla prima? Non abbiamo sbagliato! Dopo vent'anni? No no! Questo ricordi? Dopo sessant'anni che ci veniamo! Non ci credo, non ci credo! Professionisti! Andiamo, peschiamo! Se Gianfranco non c'è, vi mostro la lenza che ci ha consigliato il grande Jacopo. Quindi il Colmich Match Feeder, passiamo nel filo, chiudiamo con questa specie di stopperino, non so neanche come si ama, in modo tale da avere questo risultato. Come una caccolina! Adesso inseriamo il finalino, nell'apposita fessura. Come ti ha fatto? E ora, dottor Dio! Ok, e poi mettiamo un amo di ultima generazione in fluorocarbon. Sì? Sì! Leggimi qui! Grazie! Ok! Un po' ti faccio la lenza anche a te! Questa è la mia montatura! Una svolazzina di 30 cm, più un vino da 25 grammi e via! Alla buona eh! Oh! Lo sai c'è un profumo! Davvero! È una roba! E' un mananodore interessante! Quasi quasi ma una pallina. Fai fammi vedere un po'! Prova! Vai! Senti! A distanza da quella? Sì! Senti che... Global 3 Sì, Tiro la ha tirate passi nello stesso filo! Non so come ho fatto! Vai tira il boccino. No vedi l'ho affiatata. Questo è un po' troppo sotto. Basta non c'ho più un mila. Sto facendo dei troiari. Basta non c'ho più un mila. Siamo attrezzati. Quest'anno i professionisti ci fanno un baffo. Siamo due professionisti della Cogmi. Siamo due dentro. L'ambrello. Prima ci sapeva che aveva fame. Sicchio mio e sicchio tuo. Pastura, baci incollati. Picchetti professional, cannine professional. Manca solo una cosa. Al momento abbiamo tutto. Ma chi pesce. Ma chi pesce. Ti sta dando. Si. Ho preso in diretta. Così come tu mi guardi. In diretta. Bravo. Bravo. Buono che c'ho. Vedete qua c'è il filo bloccato. Andrebbe tolto. Andrebbe tolto. Andrebbe tolto. Buono. Buono. Ogni tanto delle belle zucate. Si le zucate ci sono. Non si sta pescando neanche grossissime. Di finale. Abbiamo un... Oh, ando vai. Sì. Hai fatto il giochino che hai detto? Si. Però non partivo a corsa. Ciao. Se non gli partivo dietro a corsa era finito. Era finito. Era finito. C'è il giochino di... Di Jacopo non si è fatto. No. Un ce l'ho fatto a Jacopo. Un ce l'ho fatto. Un ce l'ho fatto. Se stavo più veloce di me. Dai è un buon pesce. Ehi là. Barbone. Bello anche. Barbone. Io te lo dico eh. È bellino. Barbo di... 2,5 kg. Tiensi. Leggi un attimo a più al guadino. Buon più al guadino. No. Questo è un bel pesce. Giovanotto. Bifolco. Che poi ora noi abbiamo lasciato la sua canna. Questo è chiaro. Che va via di peso. Se si vede partito. Il panchetto. Bello. Ehi là. Un centro. No, no, no. Questo è un bel pesce. È bello. È bello. È bello. Questo è bello. Questo è un bel pesce. Questo è un bel pesce. sembrava piccino. Adesso, andiamola. fts. Questo è un bel pesce, Ciccio. Questo è un balbo di un po' di 2,5 kg. Sì. Adesso ha un bel di 2,5 kg. Andiamo a 3 kg. Eh questo è un bel歡迎. È bello, ma cono lì. All'inizio. Pensavo... Forse è l'acqua fresca. Stanno sentendo un po' l'acqua fredda. Anche loro. Un bel pesce! Ohhh... Bello! Guardate i labbroni! No, nemmeno la feribrice. Che gran bel pesce. Ascolta, non te lo vorrei dire. Ma questo è un pesce da 3,5 kg. No, bellissimo. Bellissimo. Guardate che bocca bella. Bello fresco. Forse ha combattuto poco per la temperatura dell'acqua. Bello. Guarda com'è. No. Guardate che barbigli belli. Oh. Bello, bello. Un bel pesce. Oh, è il primo pesce. No, il secondo. Il primo lo peso io era 15 cm. Bello. Guarda come va via. Bello. Sì. Sì. Grande prova. Grande. Grande. L'abbiamo sbagliato anche oggi. Vai. La leggerezza in persona. Vero. Ma remma diavola. Aspetta, aspetta, tieni. Tieni. Ma come si fa? Gli do una giuntina. Gli dai una giuntina? Gli do un colpettino. Un altro po' di baron collato. Vieni. Una giuntina. Una giuntina. Due etti. Guarda che sono capienti eh. Questi lost titers. Questi lost titers. Questi lost titers. Questi lost fighters. Questi lost titers. Vediamo se lo richiamo. Bravo. Bravo. Grazie. Si fuma. Ma remma diavola. È fresca l'aria. È freschino. Io sto pulendo che i cosi di bai. Ma adesso ci aspetta. Antipasto. Primo. Secondo. Dolce. Amaro. E via. E via. Da sei litri. Finita la giornata. Giornata. Tre ore di pesca. Era un testo oggi dai. Perché avevamo poche ore di pesca. Un po' freddino. Un po' freddino. L'acqua fredda. Ovviamente l'unico barbo. Tre chile e due. Tre chile. Eh. Sopra tre chile. Sei impiccata la mia canna. Praticamente stava riprendendo. Boom. E partì alla canna. Io ho visto sette, otto, dieci tirate bellissime. Ma è rimasto un pesce attaccato. O son tordo io. O son tordo io. Secondo me son tordo io. Eh. Anche secondo te. No. Ciao ragazzi. Prima puntata diciamo austriaca. Un piccolo antipasto. Un piccolo antipasto. Ci troveremo prestissimo per un'altra puntata in diretta dall'Austria con questi due cialtroni. Ciao. Ciao. Ciao.